Cari concittadini di Frascati, guardate dove mi trovo, sotto Cocciano, via di Cisternole e guardate cosa c'è, il treno scasciato nuovamente fermo. Scusa, da quant'è che è fermo? No, è un quarto d'ora che il treno scasciato è fermo, ci dice questo signore. Ecco qui, i collegamenti Roma-Frascati. Ancora una volta vedono questa condizione di inferiorità di Frascati rispetto all'Italia. Staremo mica diventando un paese del profondo sud? Staremo mica diventando un paese del progetto.